Salve a tutti, io sono Dottor Cinema e ben trovati, non nel mio salottino, questa è una nuova esterna del doc che mi permette di consigliarvi un film presente in questo momento nelle sale e che ho avuto modo di vedere qualche giorno fa. Il film in questione è Molly's Game, un film sceneggiato e diretto da Aaron Sorkin, che debutta alla regia, uno dei più apprezzati sceneggiatori a livello internazionale, per intenderci premio Oscar per The Social Network, un film che racconta la storia di una donna, Molly Bloom, tra l'altro una storia realmente accaduta, una donna che era aspirante sciatrice, aspirante avvocato, vira quelle che sono le proprie ambizioni verso il poker clandestino, inizialmente lavorando al soldo di altre persone e quindi gestendo le bische clandestine di altre persone e poi dopo essere stata messa alla porta decide di aprire il proprio giro, portando avanti quindi il guadagno di centinaia e centinaia di migliaia di dollari e finendo sotto la lente di ingrandimento sia dell'FBI che della mafia russa. Non vi racconto nient'altro riguardo a quella che è la trama, è un film che io vi consiglio di andare a vedere, è un film che vale la pena guardare solo per il fatto che alla regia abbiamo Aaron Sorkin, che tra l'altro non fallisce quello che è il suo debutto dietro alla macchina da presa. Io apprezzo questo sceneggiatore in generale per quelli che sono stati i film ai quali lui ha partecipato e devo dire che non fallisce quello che è il suo primo film da regista che tra l'altro rende palese la sua mano sia per quanto riguarda la sceneggiatura con un ritmo intenso, incalzante tipico dei film sceneggiati da Sorkin e anche la direzione registrica secondo me non è affatto male. È uno tra i film secondo me più interessanti presenti in questo momento nelle sale anche se poi in realtà probabilmente il film più interessante al cinema in questo momento anche se non l'ho visto, mi baso su quelle che sono le recensioni che inizio a leggere su internet è A Quiet Place però secondo me Emole's Game è un film da tenere sott'occhio non è sicuramente né il miglior film biografico della storia né tantomeno il miglior film sul gioco d'azzardo però ha qualcosa di interessante che viene mostrato appunto dal regista Aaron Sorkin quindi vi consiglio di andarlo a vedere qualora l'abbiate già visto qualunque vostra opinione siete liberi di esprimerla qui sotto nei commenti oppure come sempre potete contattarmi alla pagina Facebook Dr. Cinema alla quale vi consiglio di iscrivervi oppure al profilo Instagram Dr. Cinema che tra l'altro vi ricordo mi permette sempre di rispondervi e di poter chiacchierare con voi più rapidamente vi ringrazio come sempre per l'attenzione che decidete di regalarmi e qualora lo vogliate vi do l'appuntamento al prossimo video ciao